In 50 anni abbiamo arredato tante case, eleganti, funzionali, armoniose e di qualità. Ora anche la tua può essere una casa Savona Mobili. Savona Mobili, da 50 anni qualità nelle vostre case. E in occasione del nostro cinquantesimo anniversario, il regalo te lo facciamo noi. Dal 1 marzo al 30 luglio 2016 puoi comprare tutto e pagarlo in 18 mesi a tasso zero. E non dimenticare che puoi usufruire anche delle detrazioni fiscali risparmiando il 50% della tua spesa. Savona Mobili, a Mazzara del Ballo, in via Ugo Lamalfa 11. Piacciono sempre di più i Mobili Savona.